La decima edizione del torneo Liga Actea, gruppo B, partita fra Rubbo Legro e Atletico Leone. Ultima partita del girone, abbiamo l'uomo team, Van Colle, bui anni. Tanti auguri, buon compleanno, oggi hai festeggiato il compleanno come una bella doppietta, ma purtroppo non è bastata perché avete perso 5-4. No, no, non abbiamo avuto questo regalo della vittoria, però comunque ci siamo qualificati per l'Actea Cup, per l'Actea La League. Actea Cup. Actea Cup. Actea Cup, quindi comunque proseguiamo questo cammino, spero di proseguire il miglior modo possibile e speriamo. Ecco, purtroppo è arrivata la sconfitta, però da un punto di vista forse non è andata troppo male, perché comunque in Actea League, visto il blasone delle altre squadre, non avreste avuto molte possibilità, come invece avete in Actea Cup. Sì, sì, sicuramente, col senno del fuori è stata una cosa positiva, anche se comunque una sconfitta fa sempre... Voi giovate sempre per vincere. Ovvio, ovvio, sempre per vincere. Ma allora, niente, speriamo bene per l'Actea Cup e un buco al lupo per il prossimo torneo. Speriamo. Grazie. 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 Grazie.